Elodie e Andrea Iannone, l'amore continua tra roventi e sorrisi complici, andranno a convivere. Elodie e Andrea Iannone sono più innamorati che mai. Secondo quanto sostiene il settimanale Chi. La cantante e il pilota starebbero pensando alla convivenza. Intanto, sono stati immortalati tra le strade di Milano. Tra sorrisi, dolci baci e passeggiate mano nella mano. Il settimanale Chi, ha pubblicato le foto che ritraggono Elodie e Andrea Iannone in giro per Milano. I due pranzano insieme in zona Porta Genova e poi vanno a fare shopping. Lungo il tragitto si tengono per mano. Si rivolgono sorrisi complici e si fermano per scambiarsi un bacio. Sul magazine diretto da Alfonso Signorini si legge. La cantante e il pilota vivono la loro routine tra Milano e Lugano, lui, infatti, abita in Svizzera, eccoli mentre sono nel capoluogo Lombardo, pranzano in zona Porta Genova insieme con un amico. Poi da soli vanno a fare shopping per arredare la nuova casa della cantante in città. Mentre camminano sono uniti da complicità e gesti intimi, scherzano, ridono, si baciano incuranti delle persone che hanno intorno perché ormai si sentono sicuri del sentimento che li unisce. Una volta conclusa la relazione con Marrakesh, Elodie ha ritrovato l'amore con Andrea Iannone. La relazione tra il pilota e la cantante, 32 anni lei, 33 anni lui, ha avuto inizio l'estate scorsa durante una vacanza in Puglia. Sebbene stiano insieme da una manciata di mesi, il loro legame appare decisamente solido. Secondo il settimanale Chi, sarebbero intenzionati a intraprendere una convivenza. Nel nuovo capitolo della sua vita che Elodie sta vivendo c'è scritto solo un nome. Quello di Andrea Iannone. Il 2023 sarà l'anno in cui andranno a convivere, magari nella nuova casa di lei a Milano che, non a caso, stanno arredando insieme. Dessut ce crezi, orice crezi tine pentru tine, fii egoista, liniștit, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru Viboiul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text, pe mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, swapo, grasul, nimeni altu, delvede, sau carbo. Tre' să vă mănânc vers cu vers card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă bat cu boss-ul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie când atunci... MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!